Conviviale a Cinque Cerchi per il Palantron Club di Valle Camonica che nel corso della sua ultima serata ha onorato gli atleti del territorio che hanno preso parte alle recenti Paralimpiadi disputate a Pechino. Ospiti d'onore del presidente Ottavio Bonino e dei soci tesserati dalla polisportiva di Sabili Giuseppe Romele, pisognese vincitore di una medaglia di bronzo, Cristian Toninelli originario di Piancamono, lo scalvino Davide Bendotti e l'ariano Federico Pelizzari ai quali si è aggiunto il plurimedagliato d'Arfense Andrea Ravelli, guida dello sciatore ipovedente trentino Giacomo Bertagnoli. Numerosi gli aneddoti raccontati dai Magnifici Cinque sotto gli occhi curiosi e spesso meravigliati dei presenti. Vicende contrassegnate dall'impegno e dal sacrificio che li hanno condotti a prendere parte all'evento sportivo più importante al mondo. Dopo i suoi personali ringraziamenti alla consegna di rito dei Gagliardetti Panatola, la conclusione della serata, il presidente del club ha poi ricordato ai soci il prossimo appuntamento conviviale, previsto per mercoledì 25 maggio con Tiberio Cavalleri, uno dei più importanti procuratori del calcio italiano, autore del libro autobiografico O Fatto Gol. Altro evento in calendario sarà poi la consegna delle borse di studio Fair Play dello studente ai ragazzi dell'Istituto Livelli Butelli di Darfu Buario Terme, fissata per il 28 maggio. Grazie.